Mettiamo il telefono nella tomba, chiudiamola, copriamo tutto, addio telefono di bingo ti ho voluto per sempre bene Raga, il mio telefono è morto, cioè guardate non si accende più, dopo tanti anni ormai è andato, la batteria si è bruciata tutta E dato che questo è stato il mio telefono per tanti anni, il telefono con cui fino a ieri ho fatto tutti i miei video Per me non è un telefono normale, quindi voglio fargli un funerale vero e proprio Punto 1, dobbiamo costruire la bara e useremo questo cartone Forbici, trasformate questo cartone in una bara Wow, guardate raga vi faccio vedere, questo è il coperchio e questa è la bara In cui il mio telefono ci entra benissimo, anche il cartello dove c'è scritto RIP è pronto Adesso dobbiamo soltanto andare a fare la buca in giardino Ugo vuoi venire con me a fare la buca in giardino? Siamo in giardino, iniziamo a scavare, direi che siamo a buon punto Adesso dobbiamo soltanto scavare la fossa Fossa fatta, inseriamo la bara al suo interno Mettiamoci il telefono dentro, chiudiamo la bara e copriamo tutto Perfetto, inseriamo il cartello RIP Addio telefono se sta...